Uno scenario dove figurano sberle, tirate d'orecchia e capelli, strattoni e il castigo in uno stanzino nei casi peggiori. Ma dai racconti del bambino è emersa anche una sorta di pulizia della bocca con il sapone contro le bestemmie. Al centro del fascicolo c'è una maestra di una scuola materna di ispirazione cattolica nel Ravennate, per la quale la procura della città romagnola ha già chiesto il rinvio a giudizio. Il GUP dovrà pronunciarsi a metà dicembre in rito abbreviato condizionato, come chiesto dalla difesa. La diretta interessata si dice innocente, nega di aver mai alzato le mani sul minore, un bambino interessato da disagio comportamentale. La vicenda che viene collocata alcuni anni fa è approdata sui tavoli della procura quando il bimbo, passando dalla materna alle elementari, si è confidato con le nuove maestre. Magistratura e famiglia, ora parte civile, sono allora state avvertite. In un contesto protetto, il bimbo ha ripetuto le punizioni a suo dire subite dalla maestra dell'asilo. In un secondo momento, tuttavia, in incidente probatorio davanti agli psichiatri non è stato altrettanto esaustivo. Per questo, oltre all'audizione dell'imputata, il rito abbreviato è stato condizionato anche alle deposizioni dei consulenti delle parti. A quel punto il GUP avrà tutti gli elementi per decidere sulla maestra.